Sole, cielo sereno e temperature bollenti. Ecco come si presenterà la settimana di ferragosto al centro-sud. In arrivo infatti l'anticiclone africano Polifemo che da lunedì pomperà aria caldissima, portando le temperature a sfiorare i 38 gradi a Napoli, Palermo e Bari e i 36 gradi a Roma. Secondo gli esperti del meteo, Polifemo si farà sentire anche al nord, soprattutto tra pianura padana centrale e alto adriatico. I settori alpini e prealpini resteranno comunque nel mirino dell'instabilità. Partenze dunque baciate dal sole per tutti quelli che si stanno spostando verso le regioni meridionali, ma da retta all'ultima indagine della Coldiretti quasi tre italiani su quattro non si muoveranno da casa nel mese di agosto. Il traffico sulle strade infatti è ben diverso dagli esodi biblici del passato, come dire, la fine di un'epoca.